Falconara, stabilimento balneare, la siesta, spiaggia gremita. Un bagno con gli amici, risate, tuffi, poi più il nulla, il silenzio. Un ragazzino di 12 anni è morto, annegato alle 11.30 circa di sabato 29 giugno. I soccorsi sono scattati immediatamente sotto gli occhi attoniti dei bagnanti. 20 minuti il tempo per reanimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il 12enne, nato a Iesi e di origini nigeriane, frequentava l'istituto comprensivo Raffaello Sanzio, scuola secondaria di primo grado Montessori. Anche la mamma si è sentita male, schiacciata dal peso della notizia più terribile che un genitore possa ricevere. A lanciare l'allarme per primi sono stati gli amici del 12enne che erano con lui. Alcune ragazzine si sbracciavano dal pontile e così i bagnini hanno capito che qualcosa non andava e sono accorsi in massa a vedere cosa fosse successo. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari, ma i carabinieri del norma accorsi sul posto e gli inquirenti con il PM Ruggero di Conso dovranno accertare quanto accaduto in quegli istanti terribili nell'affollato mare di Falconara. Una notizia terribile che ha scosso tutta quanta la spiaggia. C'erano tante persone qui, alcune rapidamente se ne sono andate sotto shock, altre sono rimaste. Tempestivi i soccorsi, immediatamente è atterrato Icaro con il verricello e il medico e poi la croce gialla di Falconara che è arrivata immediatamente con il quad sulla spiaggia e sul pontile per cercare di salvare il ragazzo. È stato applicato il massaggio cardiaco, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il piccolino, la cui salma è rimasta sul pontile per circa due ore, è stato portato via dalle pompe funebri verso l'una e mezzo del pomeriggio. E allora sentiamo cosa ci ha detto la prima cittadina, Stefania Signorini, e poi una testimone che si trovava qui al momento della tragedia. Mi sento di esprimere tanti ringraziamenti ai bagnini di salvataggio, agli operatori balneari che sono intervenuti immediatamente, la nostra croce gialla col quad, la nostra PL che è stato eccezionale, i carabinieri, capitanali di porto, sono tutti attivati subito ed è una tragedia che veramente ci spezza il cuore. E quindi è proclamato lutto cittadino oggi a Falconara e saranno sospesi tutti gli eventi. Dicono che era in acqua, quindi si è tuffato non dal pontile ma era in acqua, ma che probabilmente non sapeva nuotare. Quindi un bambinetto di 12-13 anni, capirete che se è due metri lì, se non sai nuotare, immediatamente vai a fondo. Però l'unica cosa che posso dire è che i soccorsi sono stati immediati, veramente. Tant'è che non capivamo perché i bagnini stessero correndo. Forse noi bagnanti siamo stati poco attenti perché ti vedi un gruppo di ragazzini che si sbraccia e quindi naturalmente non sai. Probabilmente essendo lì aperto saranno un paio di metri circa. Quindi se uno è piccolino e poi inoltre non sai nuotare, va da sé che naturalmente poi vai giù purtroppo. Grazie.